Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei un iPhone 6, la Nintendo Switch, la Wii U, la Wii, che altro potrei aggiungere? 50 Barbie, 3000 peluche, e perché non aggiungere anche monopoli? Ma che bell'idea che ho avuto, per favore, ti voglio bene. Caro Babbo Natale, l'anno scorso non mi hai portato nulla, quest'anno potresti per favore farmi passare gli esami senza problemi, baci baci, Valentina. È Natale, è Viva, sì! Sì, Natale, 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 Natale! Che giorno è oggi? 24 dicembre, che giorno è? Natale, no, io odio Natale! Odio la mia vita! Te vanno a dormire, non mi svegliate per le prossime 24 ore! Ma che messi! Emi, sei contenta, hai visto che hai i regali che hai ricevuto! Ehi cazzi, mamma Natale! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! E scusa, ho finito le scatole, ho pensato di utilizzare quella per tua cugina! Ma noi non usiamo le calcolatrici a scuola! Ah, eeeh, vabbè! Può tornare sempre utile, comunque! Guarda il prossimo regalo! Dai, sicuramente starà meglio, no? Dai, vedi! Ah, ma che bello! Sicuramente vi prenderò in giro tutti quanti! Oh, sei un amore! Mamma, non ho più 5 anni! Sei carinissima, tesoro! Adoro Natale! Quanto è bello far colazione con queste cosine! Al dire il vero, questi biscotti sarebbero per Babbo Natale! Ma io ne mangio qualcuno! Mmm, sono davvero buoni! Mmm, che buono! Mmm, che stanchezza! Oh, non ce la faccio! Io odio il Natale! C'ho troppi compiti! Questa pagina l'ho fatta! Anche questa l'ho fatta! Ma anche questa! L'ultima pagina, ho poi finito il libro! Allora! Ho finito i compiti! Posso andare a giocare! Evviva! Quanti compiti ci hanno dato per le vacanze di Natale! Guardate quanti sono! E questa è solo la metà! È il momento di fare i compiti! Facciamo scienze! Il tessuto muscolare! Il tessuto muscolare! Andiamo avanti! Il tessuto muscolare è la percolità! Ok! È il momento di fare matematica! Risolvere l'algoritmo! Ah, ma non stavamo le addizioni! Allora! Allora! La radice guadato io è 171! Oddio! Come si legge questo numero? Iguale a 31,16! Eh? Troviamo conscienze! Ma quante pagine sono? Oh mio Dio! Sono 500! Che bello giocare a Natale! Chi vuole giocare con me? Io sono bravissima! Ops! Vabbè! Riproviamo! Ok! Ce l'ho fatta! Che bello! Quest'anno ho ricevuto anche pochi compiti! Fiu! Così posso giocare più tempo! Sì! Ah! Basta questo gioco! Adesso voglio giocare un po' con i pelucci e con le bambole! Ciao! Ti piace questo vestito? Ma sì! È bellissimo! E ti piace la mia nuova colorina? E guardate che ci sono anch'io! Mi piacciono i miei occhiali! Adoro a Natale! Buon Natale! Ancora un punto? E salirò di livello! Ce la posso fare? Dai! Sì! Sono brava! Ce la posso fare! Coraggio! Buon Natale a tutti! Vi voglio bene!